E' stato rimandato al 26 novembre l'incontro che avrebbe dovuto sciogliere il nodo dei contratti di servizio di Alba. La riunione, inizialmente prevista per martedì 13, è stata rinviata per sopravvenute necessità di natura tecnica ed istituzionale. In quella sede le parti in causa discuteranno su due bozze di contratti, al fine di avviare un confronto fra Governance Alba e Sindacati.